Sabato pre-ferragosto, il centro vaccini all'ex Eurobrico in città aperto solo al mattino, ma a differenza delle scorse ore, come abbiamo riportato nei nostri Tg, in mattinata sono state superate le 200 somministrazioni di prime dosi di vaccino anti-Covid. Di queste, oltre un quarto a minori, approfittando della nuova direttiva regionale che prevede l'accesso diretto, senza prenotazione, quindi per la vaccinazione di chi ha tra i 12 e i 25 anni e la possibilità di anticipare la seconda dose sempre senza prenotazione. Nello specifico, a seconda del vaccino somministrato, la seconda inoculazione può avvenire a 21-28 giorni dalla prima. Forte la presenza di ultra 50 anni, ma sono soprattutto i minori, dicevamo, che chiedono la vaccinazione, come conferma anche questa mamma che ha accompagnato le due figlie 14 anni. Io ero un po' dubbiosa, perché aspettavo una certa... non sono contro i vaccini, solamente per 14 anni aspettavo un'antimino di più, però sono proprio loro che me l'hanno chiesto, anche perché fanno nuoto agonistico e poi andranno a settembre in prima superiore, per cui non vorrei che a un certo punto mi dicessero chi è vaccinato e entri a scuola in presenza, e chi non ha vaccinato resta a casa in dada, cioè si è rientrati ieri dalle ferie e hanno detto, no no, noi vogliamo essere vaccinate, lo vogliamo fare per essere libere. Non è un obbligo, però è anche un rispetto civico per tutti noi, io entrambi l'abbiamo fatto il vaccino, noi genitori, per cui ero solo un po' dubbiosa per il fatto dell'età. La sede vaccinale dell'ex Eurobrico resterà chiusa anche per tutta la giornata di domenica e ritornerà attiva lunedì 16 agosto.